Una chicca? La volete una chicca? Questa è la foto che ieri Trump sul suo social nuovo inaugurato ieri ha appunto postato Donaldone Trump, Vladimir Putin. Tutto casuale naturalmente, naturalmente mainstream queste cose non ve le mostra, per questo c'è la controinformazione indipendente e il sottoscritto che ha un piccolo, piccolissimo, umilissimo ruolo in tutto questo. Bella è questa chicca? Ripeto, foto postata ieri da Donaldone Trump sul suo social. E se non vi basta, continuate a seguirmi cari amici perché ci divertiremo. Vi garantisco che ci divertiremo oltre ogni misura. La fase in cui subivamo ed eravamo sulla difensiva è finita, ora si contrattacca. Giorgio Riccardini, il canale Giorgio Riccardini su YouTube, il canale Giorgio Riccardini 2 il muletto sempre su YouTube, Shark Tube, il profilo Giorgio Riccardini e il canale Telegram Giorgio Riccardini.